Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Volevo una nuova lampada LED 16.000 colori, intelligente, smart, che possa dare un tocco in più di colore al mio nuovo studio. Se anche voi cercate un prodotto di questo tipo, siete nel video giusto! Striscia LED luminoso e intelligente della LP Display. L'ho trovata su Amazon dopo tante ricerche e dopo tanti confronti di prezzi. È una lampada da terra LED RGB dimmerabile, alta un metro e trenta, con telecomando e app, ovviamente multicolore. Ebbene sì, parliamo di 16 milioni di colori, 300 e più modalità di illuminazione, che dovrebbe essere la marcia in più per rendere questo ambiente più colorato. Sincronizzazione musicale e temporizzazione della luce, quindi dovrebbe ballare con la musica che sente nell'ambiente. Si può impostare l'accensione e lo spegnimento. Ogni stanza dovrebbe risultare uno spettacolo. Direi unboxing rapido! All'interno, istruzioni, abbastanza chiare anche con l'informazione e il QR code dell'app da scaricare. Telecomando! Qui all'interno abbiamo il cavo USB che andrà a connettersi al nostro alimentatore da 5 Watt che non è incluso e il cavo che avrà poi una sorta di ricevitore che ci permetterà poi di far capire alla lampada anche tante informazioni, quale ad esempio il ritmo sonoro per poter cambiare colore a tempo. Uno, due e tre. Questi sono tre pezzi di led che andranno a completare la struttura di circa un metro e venti, un metro e trenta circa. Concludiamo con la base. Ecco, una base abbastanza solida di circa due chili. Con filettatura per l'inserimento del primo led base. La sensazione è che dia stabilità. Installazione iper rapida. Nella base che abbiamo detto è filettata andremo a inserire la base dei nostri led. Calcolate che ogni striscia che sarà di circa 40 centimetri è composta da una parte plastica che sinceramente non dà una gran sensazione di sicurezza e all'interno come potete vedere c'è un led. Uno dei classici led che invece di essere monocolore è rgb e insieme a tutti gli altri una volta unito può darci tutte quelle che sono le sfumature. Quindi un design plug and play praticamente con la base andiamo a attaccare il connettore in questo modo con i tre mini jack e andiamo a chiudere con il sigillo. Presa USB che andrà inserita nel connettore che non è incluso io utilizzerò questo connettore da 5 watt. Questo piccolo foro che vedete è il mic hole che permette di far entrare i suoni e dare la possibilità alla lampada di fare delle modifiche alla luce. Ricevitore a infrarossi. È una semplicissima mescola in plastica dal lato frontale opaco dal lato dietro nero. Inseriamo la base. in confezione sono anche inclusi un comodo porta filo da muro e un adesivo. Lampada completa. Più di mille parole ora vale il test. Guardate la lampada che nel suo complesso non è male come altezza. Riempie abbastanza bene anche una stanza di due tre metri quadrati senza grandi problemi. Non aspettatevi di riempire però una stanza molto grande o di illuminarla completamente. Nella sua modalità automatica demo ha una gran bella potenza. nella tua zonaichia. Riempie di lumberia. con il suo telecomando in dotazione ha davvero un sacco di funzioni anche se raggiunge il massimo delle funzioni che ha utilizzando l'app smart life che vedete qui al mio fianco la potete scaricare gratuitamente e ci sono tutte le informazioni nel manuale per poter poi configurare la lampada in maniera molto molto semplice nel telecomando dove possiamo settare la luminosità il tipo di luminosità e tantissimi effetti ho settato la funzione come potete vedere musica e ascolto direttamente della voce quando parlo la lampada fa degli effetti luminosi immaginate quando c'è della musica abbiamo davvero una discoteca volare le funzioni sono davvero tante potete anche scegliere il colore che preferite tenere all'interno della stanza come ad esempio red green o blu o per gli amanti del classico white si configura perfettamente con alexa e non solo marcatura europea ce ed è completamente sicura per chi la utilizza quindi un assorbimento dichiarato di 4,5 watt il che è veramente poco ce ne sono in commercio molte che hanno dei vattaggi molto più alti ma hanno anche altri tipi di consumi e per la mia esigenza questa è per uno studio piccolo questa va più che bene i led uniti lasciano nella plastica frontale e posteriore un piccolo una piccola fessura che non è bellissima sinceramente se dovesse stare nel mio salotto principale ecco magari preferirei qualcosa di più elegante distanza massima del telecomando 5 metri la pile già inclusa non è male ha tantissime funzioni nel telecomando ma tutte le funzioni complete le troviamo poi nell'app un'esperienza d'uso che secondo me è davvero molto facile e intuitiva rapporto qualità prezzo spaventosa perché 35 39 euro per un prodotto di questo tipo che si trova normalmente nel mercato anche a 60 70 euro secondo me è davvero ottimo inserita la mia luce blu che è quella che preferisco che andrò mettere nell'ambiente che vedrete nel prossimo video vi saluto in descrizione trovate il link degli amazon per poter comprare questa lampada anche scontata quindi like iscrivetevi e rimanete connessi ciao ragazzi